Musica Prosecco Doc Millesimato Extra Dry Cantine I Padroncini Bentrovati al meteo Inizio di weekend con un tempo ancora buono La situazione sarà destinata a cambiare domenica per l'arrivo di un fronte perturbato Vediamo intanto il dettaglio di sabato 25 settembre Sul Veneto giornata caratterizzata da qualche foschia e nube bassa al mattino specie in pianura e sulle vallate alpine altrove tanto sole ovunque e cielo al massimo poco nuvoloso Temperature minime tra 12 e 17 gradi valori massimi oscillanti invece tra i 22 e i 25 gradi Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo la stessa situazione con locali annuvolamenti specie in montagna sui restanti settori sarà più soleggiato Temperature minime tra 15 e 19 gradi massime sui 23 e 25 gradi Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige dove avremo anche qui condizioni di tempo asciutto e soleggiato come vediamo e il cielo si presenterà sereno o velato Temperature minime intorno ai 14 e 15 gradi massime sui 24 e 25 all'incirca Dal Meteo di Antena 3 è tutto grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento Prosecco Doc Millesimato Extra Dry Cantine I Padroncini Grazie a tutti Grazie a tutti.